C'era una volta, una città animata da casoini, favari, stagnini, cordai, bottegai e artigiani di ogni genere, nella quale borghesi e popolani, preti e farmacisti, siori e militari incrociavano le proprie resistenze fra i portici e le piazze, le chiese e i palazzi. C'era una volta, dicevamo, e c'è ancora, nelle fotografie in bianco e nero o dai colori sbiaditi, che ogni famiglia conserva gelosamente nei propri cassetti. Tutto un mondo prende vita dai vecchi negativi e da foto come quelle che state vedendo, scattate da Bassiano Zonta. Uomini e donne che ci raccontano quali erano i loro mestieri e come ci si vestiva. Allo stesso modo la città, la campagna, il monte ci parlano di loro dicendoci che cosa c'era e che cosa non c'è più e cosa è arrivato di nuovo. Tradizioni, radici, cultura, identità racchiuse nello scatto di una fotocamera. Quel click è una macchina del tempo e per funzionare ha solo bisogno che le vecchie fotografie, le stampe e i ricordi escano dai cassetti e dagli armadi. Così, ancora una volta, quei volti, quelle botteghe e quelle case torneranno a parlarci di quel che eravamo e di quel che siamo oggi. Perché ogni storia inizia così. C'era una volta.